ah ma che bello questo posto non è cambiato proprio niente sto spunto guarda è sempre uguale lucilla dove sei allora ti ha fatto male te che ti ho preparato ieri speriamo di non eccoci di spesso che bello era mancato questo posto fare tutto uguale dai che voglio fare previsioni muoviti su un do vabbè o c'è la telecamera accesa le faccio lo stesso allora amici non so che tempo ci sarà per natale però le faccio lo stesso tanto se ne vica state in casa state con i vostri e mangiate abbuffatevi che tanto lo farete comunque e se non c'è solo uscite fate una bella passeggiata sul al freddo ben male al fresco sul lungo po e adesso peccatevi le previsioni del tempo per natale previsioni per oggi 24 dicembre festività l'insegna di un tempo stabile favorito dall'anticiclone di natale un'area di alta pressione che ci accomuna gran parte dell'europa meridionale dove si protende l'anticiclone delle azzorre continua il rischio di nebbie con visibilità altalenante nel settore centrale della valpadana dove la qualità dell'area è destinata a peggiorare altrove tempo più soleggiato con il sole intervallato qualche passaggio di nubi nocque e aria mite che si traduce in temperature sopra le medie stagionali Merry Christmas a tutti Ciao